Ciao a tutti, benvenuti alla nostra serie di video lezioni su Niccolò Machiavelli, qui definito come il più grande filosofo politico italiano, di sicuro il primo ad elaborare una teoria politica, una proposta politica concretamente realizzabile, in un tempo in cui il 1500, i primi del 1500, la maggior parte dei trattatisti politici proponeva soluzioni utopiche. Ma vediamo nel dettaglio, prima di affrontare la sua biografia, un affresco del periodo storico in cui Machiavelli vive, opera ed elabora appunto le sue teorie, cioè il periodo che si trova a cavallo tra il 1400 e il 1500, e in particolare ci concentriamo sulle vicende della sua città, cioè della sua Firenze, che sono delle vicende piuttosto piuttosto convulse e piuttosto difficili dal punto di vista storico-politico. La storia di Firenze, scuseranno gli amici fiorentini, cercherò di essere, come dire, dettagliata per quanto possibile, ecco, in questa sede. Le vicende che attraversano Firenze tra il 1492, cioè la morte di Lorenzo il Magnifico, il 1530, cioè il momento in cui gli eserciti spagnoli, meglio dire imperiali di Carlo V, si impossessano ufficialmente dell'Italia, in particolare centro-settentrionale, è appunto un periodo questo piuttosto difficile per Firenze, in cui accadono moltissimi rivolgimenti politici. Dopo la morte di Lorenzo il Magnifico, gli succede Piero II De Medici, che governa dal 92 al 94, il quale però viene accusato in particolare dal monaco dominicano Gerolamo Savonarola, che già sarà scagliato contro Lorenzo De Medici in particolare per questioni di tipo morale, viene accusato appunto da Carlo VIII, il re di Francia che era calato in Italia, aveva cominciato, a opprimere diciamo l'Italia con le prime campagne di conquista, di aver accettato appunto esose condizioni di guerra, motivo per cui si scatena a Firenze una rivolta popolare e viene nuovamente instaurata la Repubblica, cade la Signoria Dei Medici e viene reinstaurata la Repubblica Fiorentina, gestita diciamo così, amministrata in primo piano in particolare appunto da Gerolamo Savonarola, che si scaglia tra l'altro con molto coraggio anche contro Papa Alessandro VI Borgia, per intenderci, no? Quello pieno di figli ragazzi. Questo gli costa la vita, gli costa accuse di di eresia, di corruzione, è appunto la vita, perché nel 1498 Savonarola viene giustiziato, diciamo così, viene condannato al rogo su volontà appunto di Papa Alessandro VI. Tra il 1498 e il 1512, ed è questo l'anno di maggiore attività di Machiavelli come segretario della Cancelleria Fiorentina, poi lo vedremo nel dettaglio, Firenze trova nuovamente, cioè prosegue la sua diciamo storia repubblicana e la Repubblica è gestita dal gonfaloniere di giustizia, una sorta di ministro della giustizia, Pier Soderini, che era amato dal popolo ed era un tiepido diciamo sostenitore dei medici, quindi diciamo che la figura di Pier Soderini, almeno in apparenza era tipido, la figura di Pier Soderini soddisfa un po' tutti a Firenze, questo è il motivo per cui dura così tanto. Il 1512 è l'anno che vede invece il ritorno dei medici appoggiati dalla Spagna, lo so, non vi ricordate già più nulla e ve l'ho detto che questo è un periodo in cui le vicende si susseguono spesso in modo convulso. Nel 1527 poi i medici vengono nuovamente cacciati, viene reinstaurata la Repubblica che però cade di nuovo tre anni dopo nel 1530 quando appunto gli eserciti spagnoli barra imperiali di Carlo V, dell'imperatore Carlo V, la conquistano definitivamente e vogliamo ricordare, perché questo è un po' un orgoglio, un po' di orgoglio patrio, che in questa occasione Firenze venne eroicamente difesa da Francesco Ferrucci, on duom di Ferruccio al cor e la mano, dice il nostro inno nazionale, e da Michelangelo Buonarrotti. Ma vediamo nel dettaglio la vita invece di Niccolò Machiavelli, che sì è il più grande, il più concreto, soprattutto teorico politico italiano, ma non è un politico, non lo può essere perché non appartiene alle leve più alte della società fiorentina e quindi non può ambire a rivestire cariche politiche diciamo di una certa importanza, però ha un ruolo di amministratore di primo piano, più che di amministratore proprio di tecnico, ok, di primo piano, ruolo che gli dà l'opportunità di avere a che fare con la politica, di poterla osservare direttamente ad occhio nudo, è per questo che ha poi una visione molto chiara dalle cose, perché le vede proprio con i suoi occhi. Nasce nel 1469 a Firenze, il padre è un notaio che lo avvia insomma agli studi umanistici e anche a quelli notarili, riveste quasi subito degli incarichi d'ufficio all'interno appunto dell'amministrazione fiorentina, arrivando poi a ricoprire tra 1498 e il 1512 l'incarico di segretario della cancelleria fiorentina. Questi anni nelle sue lettere, insomma nella corrispondenza che teneva con diversi suoi amici, primo fra tutti Francesco Vettori, vengono definiti anni né dormiti né giocati, cioè di intensissimo e serio lavoro. Ma che cosa era la cancelleria? Andiamo un attimo alla slide successiva, poi torniamo indietro. Ragazzi la cancelleria in età medievale era appunto l'ufficio addetto alla registrazione, alla redazione, alla spedizione di documenti presso re, papi, comuni eccetera eccetera, quindi ogni stato aveva la sua cancelleria, il suo ufficio particolare. In età moderna invece, quindi già ai tempi di Machiavelli, non è solo l'ufficio addetto alla redazione, registrazione, archiviazione di documenti e spedizione di documenti, ma è anche l'ufficio responsabile della politica estera, motivo per cui il segretario svolge anche delle missioni diplomatiche. Se volete potete, vi rimando insomma con il link alla pagina del vocabolare delle tre cani, in cui tutto è spiegato in modo più dettagliato. Quindi Niccolò Machiavelli, come segretario della cancelleria fiorentina, ok, svolge non solo con semplici compiti di segreteria, come appunto noi oggi diremmo mettere il timbro sui documenti, che poi le segreterie non fanno, è solo quello, ci mancherebbe altro, anzi ad esempio nella scuola si occupano praticamente anche delle assunzioni degli insegnanti, quindi insomma fanno un lavoro molto molto impegnativo e di grande responsabilità. Comunque il lavoro appunto non è quello, non è solo relativo appunto alla gestione, diciamo così, dei documenti, ma il segretario in questo caso Machiavelli è impegnato anche in molte missioni diplomatiche. Machiavelli accompagnava spesso personaggi politici importanti della appunto Repubblica Fiorentina presso missioni diplomatiche, quindi immaginiamocelo ad esempio a seguito, che so, di Pier Soderini presso una, che so, presso il Papa, ok? Pier Soderini e il Papa discutono di questioni politiche e assiste alla riunione, Machiavelli assistono tanti altri collaboratori, tanti altri segretari. Machiavelli ha il compito di prendere appunti, poi redigere il verbale, poi redigere una relazione e tra l'altro tutte queste, come dire, la stesura di tutte queste, di tutti questi testi di tipo tecnico, relazioni, verbali, eccetera, saranno poi il materiale per la redazione delle sue opere di filosofia politica, chiaramente primo fra tutte il principe. Le missioni diplomatiche lo vedono impegnato anche, insomma, da solo presso ad esempio il re Luigi XII di Francia, l'imperatore Massimiliano d'Asburgo, il signore di Romagna, diciamo Cesare Borgia, figlio di Papa Alessandro Borgia, che lui ammirerà tantissimo, tanto che appunto Cesare Borgia diventerà l'emblema, diciamo così, del principe. In questa sua esperienza pratica, in questo suo avere a che fare con i suoi occhi, con le sue orecchie, soprattutto con la sua capacità di recepire la realtà, di avere a che fare quindi con la realtà, Machiavelli elabora appunto una visione molto, molto chiara delle cose e delle questioni politiche e del modo di agire degli uomini e del carattere stesso degli uomini, in particolare dei politici. Si rende conto innanzitutto che l'Italia, soprattutto in un confronto con gli altri stati europei, esca completamente sconfitta. Perché? Perché l'Italia risente di una frammentazione tra diversi piccoli stati che la rendono estremamente debole. Il confronto viene operato soprattutto con la Francia. Machiavelli ammira moltissimo la Francia, dedicherà allo Stato francese una delle sue principali opere minori, cioè il ritratto delle cose di Francia. Perché? Perché la Francia ha un monarca forte, ok? Il monarca è assistito, aiutato, coadiuvato da una nobiltà fedele e poi la Francia gode di, come diceva lui, buone leggi e buone armi. Cioè ha un sistema, diciamo, legislativo piuttosto efficiente, nel senso che le leggi sono chiare, tendono ad essere anche eque e poi ha un esercito regolare. Ricordiamoci ragazzi che gli stati italiani, le varie signorie, le varie principate ai tempi di Machiavelli, non hanno degli eserciti regolari, cioè degli eserciti nazionali, ma per le diverse guerre si avvalgono degli eserciti privati, delle cosiddette compagnie di ventura, che sono eserciti mercenari, che quindi non combattono per difendere il proprio Stato, ma combattono per il semplice guadagno e quindi sono anche, oltre che poco animate, diciamo, da spirito d'amor patrio nella guerra, sono facilmente corruttibili. Nel 1512, quando appunto vengono, viene reinstaurata la Signoria Medicea, Machiavelli viene esiliato, viene, più che esiliato, viene relegato proprio, infatti si parla di relegazio, viene costretto di fatto a soggiornare in una sua dimora, diciamo, in campagna all'albergaccio. Questo è il periodo che lui definisce post res perditas, cioè dopo aver perso tutto, dopo le cose perse, sarebbe letteralmente, perché lui perde e viene di fatto licenziato, perde insomma tutto il, perde il ruolo alla sua posizione, tutta la posizione che aveva avuto sino a quel momento. Un periodo molto noioso per lui, abituato ad avere a che fare con signori, principi, papi, imperatori, eccetera, si ritrova invece a non poter parlare praticamente con nessuno, l'unica sua consolazione è, come dice lui nella famosa letteral Vettori, è quella di interessarsi allo studio degli antichi alla sera appunto nella sua casa. Il 1513 è un'andata, è un anno molto triste per Machiavelli perché viene arrestato e torturato, in quanto viene sospettato di aver congiurato contro i medici, però è anche l'anno in cui lui in pochissimi mesi tra l'anno, tra l'altro scrive il principe. Tra il 1520 e il 1527, appunto con il rientro dei medici, Machiavelli viene di nuovo richiamato a lavorare nella cancelleria, però rivestendo dei piccoli incarichi. Nel 1527 i medici nuovamente decadono, poi appunto nel 30 diciamo ci saranno gli spagnoli, lui viene completamente escluso e morirà dopo poco tempo. Una vita piuttosto triste anche dal punto di vista personale, insomma piuttosto solitaria, ma molto addentro alle cose del mondo, soprattutto del suo presente. E parliamo di lui, parliamo del principe, oggi ci concentriamo sulle questioni principali, vedremo poi dopo la sua struttura e nelle prossime video lezioni analizzeremo i diversi elementi fondamentali, i diversi capitoli e vedremo qualche testo. Il principe è un trattato di filosofia politica, scritto nel 1513 e pubblicato post mortem, postumo, nel 1532. È piuttosto breve ragazzi, è tutto sommato un libricino, un libello, più o meno di queste dimensioni, ma bello intenso. È costituito da 26 capitoli che, di cui tra l'altro alcuni sono brevissimi, altri di qualche pagina, è giusto per darvi un'idea della lunghezza, come direste voi prof, quanto è lungo il libro che ci deve far leggere? Ci siamo capiti. Ogni capitolo reca titoli in latino, poi tradotti in volgare e tutta l'opera è scritta in volgare. Quale volgare poi utilizza? Non utilizza il fiorentino prescritto da Bembo, siamo noi ai tempi della questione della lingua dei primi del Cinquecento. Quel tipo di fiorentino verrà utilizzato in una grande opera per la prima volta a Dario Osto, nell'Orlando Furioso. Lui utilizza invece il fiorentino che lui stesso aveva proposto come più efficace, diciamo, come lingua degli intellettuali italiani, appunto nei dibattiti che animavano la questione della lingua, cioè il fiorentino parlato per una questione anche di realismo, di aderenza alla realtà. Il principe è uno dei primi libri a finire all'indice dei libri proibiti nel 1559, perché venne da subito, già dal 32, dall'anno della sua pubblicazione, giudicato eretico, scandaloso e spregiudicato. Perché il principe non propone un modello di principe perfetto, non propone un modello di politica politicamente corretta, di politica eticamente corretta, ma propone una sorta di adattamento alla realtà contingente, di adattabilità del principe alla realtà contingente. Lo vedremo poi nel dettaglio i consigli che da lui non sono dei consigli che afferiscono sempre alla categoria morale della virtù, anzi a dir la verità ha un'idea un po' particolare della virtù, Machiavelli. È un'opera grandiosa ragazzi, perché è un'opera che presenta un lucido realismo dell'analisi politica, non propone uno stato ideale impossibile da realizzare, ma partendo dall'analisi concreta, dalla realtà che effettivamente si ha sotto gli occhi, Machiavelli propone un modello di uomo politico, cioè di principe, di capo di stato, che possa gestire lo stato e possa garantire pace e giustizia per tutti. Ok? Vediamo di che cosa parlano i diversi libri, li raggruppiamo diciamo in in cinque gruppi. Il appunto alla struttura del principe vede i libri dal primo al quattordicesimo analizzare i diversi tipi di principatto, ci sono principati ereditari, ci sono principati annessi a principati già esistenti, ci sono principati che nascono solo grazie alla propria virtù, altri che si appoggiano invece sulla fortuna altrui, su armi altrui, eccetera eccetera. I capitoli tra il quindicesimo e il diciottesimo sono tra i più famosi, sono cruciali in quanto viene delineata la figura del principe con le caratteristiche vincenti, diciamo così, per la corretta gestione di uno stato. Sono quelli in cui viene delineata la virtù del principe, che non è appunto eticamente corretta, politicamente corretta, come potremmo immaginarci da questa parola, ok? La accezione di virtù è più latina che non italiana, poi lo vedremo nel dettaglio. Il capitolo ventiquattresimo analizza invece i difetti e le colpe dei principi italiani, quindi si concentra su una loro incapacità nell'azione politica, sul fatto di non saper gestire bene gli eserciti, eccetera. Il venticiquesimo capitolo, anche questo è fondamentale, si concentra sulla fortuna, cioè sul caso che più o meno, meglio dire per metà, governa la vita degli uomini e sul rapporto che esiste tra la fortuna e la virtù. L'ultimo capitolo, il ventiseiesimo, è un'asortazione all'Italia affinché possa trovare un principe, una monarca, perché di questo si parla, a Machiavelli non crede, assolutamente nello Stato repubblicano, che possa governare l'Italia con fermezza ed impedirle di essere occupata da eserciti stranieri, cosa che purtroppo invece accadrà. E noi ci vediamo nelle prossime video lezioni. Arrivederci!